Sono Burr Grill Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni comunisti più pericolosi della terra Dovrò superare la Cina in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza Questa volta affronterò le montagne della Cina dove lotterò con i giapponesi La Cina è un paese Non ci venivo da tanto L'ultima volta è stato Seconda guerra mondiale La Cina è appena stata colpita da Aereo Il vento può superare i 105 comunisti E le nuvole possono scaricare a terra MAIALI Ora scendiamo nella grotta Giochiamo un po' a tennis con i comunisti Quarca m***a Ne ho preso uno Ancora uno Ancora uno Sono proprio soddisfatto Ancora uno Ancora uno Ancora uno